Ecco qui, dalla sezione acquirente di Amazon sostanzialmente, dal computer vi consiglio ovviamente, andate in qua tutte e qua vedete che compare tutto. E qua c'è la sezione made in Italy, voi ci cliccate, andate a scegliere dove volete cercare possibili clienti da gestire, ad esempio casa e arredo, ci andate dentro. Queste cose le ho già fatte vedere tutte comunque nei video anche su YouTube, andate qua dentro, scegliete la macro categoria, che potrebbe essere arredamento, entriamo dentro e qua dentro cosa facciamo? Troviamo tantissime aziende, tutte italiane, la maggioranza, tutte italiane praticamente, la maggioranza, e le andate a contattare. Quindi si possono mettere dei filtri, voi le consiglio di fare io è andare a contattare aziende che stanno caricando da recentemente prodotti su Amazon, oppure che si sono entrate da poco e quindi c'è margine di miglioramento. Quindi come si fa? Si va in, scorrendo qua, nuovi arrivi, cioè sulla sinistra nuovi arrivi il filtro, si mette ultimi 90 giorni, va benissimo, quindi gli ultimi tre mesi. E qua vediamo che ci sono dei prodotti che ovviamente hanno poche recensioni che sono stati caricati da poco. Ad esempio, qua c'è Dorian Home e possiamo addirittura in realtà filtrare anche quelle recensioni, magari vogliamo trovare prodotti recenti con recensioni positive, perché ovviamente se le recensioni fanno schifo vuol dire che l'azienda che vogliamo andare ad aiutare non ha prodotti di qualità e a noi non ci interessa. Noi vogliamo aiutare aziende che hanno un potenziale, non aziende che sono lì giusto per fare qualche soldo, non va bene. Quindi magari mettiamo media delle recensioni, alte, ultimi 90 giorni, con recensioni positive, vediamo, abbiamo trovato un po' di risultati che non sono tanti, vedete? Sono rimaste magari solamente queste cinque. Ora è un esempio, però magari prendiamo questa, Dorian Home, lo apriamo, il prodotto ovviamente. Andiamo a vedere la pagina prodotti, vediamo che è venduto e spedito da Dorian Home. Questa pagina, quindi cosa si fa a vedere? Intanto qui già si vede che non hanno uno store, quindi non hanno uno store e probabilmente neanche il marchio registrato. E si può fare poche immagini, ne hanno solamente sei, ma senza video e niente, non hanno ovviamente i contenuti a plus. Si va direttamente a cliccare su venditore Dorian Home e andiamo a vedere dentro cosa stanno facendo su Amazon. Si va qui dentro. Qua si vede le recensioni venditore, questo ci interessa, se siano positive, se sono bravi. Qui in questa foto sono bravi. La vetrina del negozio si va a vedere. Quindi apriamo la vetrina del negozio per vedere i loro prodotti che hanno all'interno. E hanno 22 risultati. Quindi hanno tutte buone recensioni, non tante recensioni. E si può fare, si può migliorare. Ma attenzione, questo è il primo impatto. Dice ok, interessante, bene. Ci interessa vedere però questa azienda qui dov'è. Sui social, su internet, che cosa fa, dov'è. Si va a cercare, si va a cerca Dorian Home su Google, non su home, su Google. E vediamo se compare da qualche altra parte. Ad esempio qua vediamo che c'è una loro azienda, ma non hanno un sito. Il sito non ce l'hanno, per esempio. Hanno una pagina Instagram? Probabilmente sì. Quindi andiamo a vedere la loro pagina Instagram. Ovviamente un attimo che carica, eccola qui. E vediamo che non sembrano, cioè non... Non sembrano, questa sembra un'altra cosa, non c'entra niente. Quindi no, non sembrerebbe, hanno neanche Instagram. Quindi non sembrerebbe che ci siano... Che siano presenti all'esterno. Potrebbe essere uno di cui brand è private label lanciato senza sito internet, senza niente, solo che vende su Amazon. E ci sta. Quindi quello che possiamo fare è in realtà cercare di contattarlo come. Qua sotto, se scorriamo, vediamo che intanto l'azienda italiana, Lombarda... Ecco, il nome dell'azienda è Lombarda Trapunte. Quindi possiamo anche cercare direttamente Lombarda Trapunte su Google. E vediamo se troviamo qualcosa invece. Eccolo qua. Produzione tessile. Quindi è un'azienda di produzione che ha creato il suo brand Dorian Home e sta vendendo. Andiamo a vedere il loro sito internet. Vedete che abbiamo già trovato qualcosa di più. E quindi potrebbe avere tantissimi prodotti interessanti. Questo è proprio un produttore che è ancora meglio. Vuol dire, hanno tantissimi prodotti, tutti made in Italy. Vedete come in poco tempo abbiamo trovato già una possibile azienda da aiutare. Copri divano, insomma, fanno tutto anche made in Italy. Prodotti ecosostenibili. Si possono ottenere quindi anche le certificazioni climate pledge. Si può avere veramente un fottio di roba. Poi essendo produttori hanno tantissima, tantissimo materiale. Qua vedete che hanno tutta la spiegazione, migliori tutela dell'ambiente, energie rinnovabili, provvedere alla produzione proprio che fa bisogno di energetico tramite i pannelli. Su questi atleti possono essere tutte cose che uno va ad aggiungere su Amazon per creare la brand identity, per creare il proprio valore. Quindi incrementare il valore percepito dai clienti e quindi le vendite. Quindi abbiamo trovato un'azienda, è un'azienda solida, sicuramente, è un produttore, lo fanno già, qui c'è scritto da oltre 30 anni, quindi poi deve andare a vedere ovviamente chi sono, come azienda, vi leggete un pochino. Questa è già un'azienda, per esempio, trovate poi in live. Hanno la mail, quindi possono essere già contatti da info, oppure chiamandoli. La cosa migliore è mandare una mail in realtà. Va benissimo una mail a info, chiocciola qualcosa e vedete cosa succede. Qua comunque c'è scritto tutta la loro storia dell'azienda, sembra infinita. Finiture accurate, rifiniamo a mano, fanno rifiniscano tutto a mano, vedete? Quindi qui c'è tanto valore, secondo me si può fare veramente tanto. Bergamo, ok. Si contatta tramite la mail info e gli si va a dire che l'abbiamo vista su Amazon. Noi siamo degli esperti, perché è vero, quindi non si mente mai, questa cosa la chiarisco. Sempre trasparenza, professionalità, correttezza e spiegare, dare valore al cliente in anticipo. Quindi nelle mail noi dobbiamo dare valore al cliente gratis. Uno dice, ma come? Ma io mi devo far pagare una consulenza? No, gratis. Dovete far capire al cliente che voi sapete quello che state dicendo. Quindi gli si fa un'analisi praticamente per mail, gli si dice, guarda, questi sono i vostri prodotti, si può migliorare, si può incrementare, ora senza mettere troppa roba e senza spiegarlo in termini tecnici perché ci si perde, ma semplicemente dicendo al cliente, si può aggiungere i contenuti a marchio registrato multimediali, aumentare, si vanno a vedere magari con x-ray, quindi usando i software si mette gli screenshot dei fatturati, delle parole chiave principali trovate con cerebro e qui viene di mezzo la tua competenza, la vostra competenza, gli mettete gli screenshot. Una cosa che non richiede tantissimo, cioè in un pomeriggio nemmeno si fa, cioè in un'oretta si fa direttamente uno screening delle parole chiave principali, si vanno a vedere loro come sono messi, già nella vitrina possiamo andare, che è questa, a vedere quanto stanno fatturando con Helium 10, che tra l'altro ora ha cambiato i piani, avete visto che non si chiama più Platino, Diamante e così via, ma non cambia niente, cioè i prezzi sono sempre quelli e anche la sostanza. Qua vediamo quanto sta fatturando, sta facendo 8.000 euro al mese, con questo topper in microfibra che vende più di tutti e ha solamente 6 recensioni, fa 82 vendite al mese e fa 4.000 euro. Probabilmente questi non stanno neanche facendo le campagne, lo vediamo da qua, che non compare niente, è risponsorizzato, non pensa proprio che stiano facendo campagne, quindi questo è sicuramente un brand che potrebbe essere contattato e questo è uno preso casualmente in live con voi.